Non solo non è destinato a chiudere, ma diventerà un nosocomio altamente specializzato. È quanto emerge dall'atto aziendale della ASL di Pescara per l'ospedale Santissima Trinità di Popoli. Tirano un sospiro di sollievo dunque i cittadini popolesi e gli operatori sanitari che non vedranno la chiusura dell'importante presidio ospedaliero, molto importante non solo per i cittadini della città delle acque. L'ospedale di Popoli è destinato a specializzarsi, cambiando la sua destinazione rispetto a quella di un ospedale comunemente inteso e anche rispetto al passato. Hanno affermato il presidente della provincia Guerino Testa e l'assessore alla sanità Mario Lattanzio. Lo prevede l'atto aziendale della ASL e ci pare che i progetti messi nero su bianco si stiano realizzando. I lunghi mesi di battaglia per la salvezza del presidio scaturiti in seguito al riordino dei piccoli ospedali avevano coinvolto la società civile e quella medica in assemblee, sciopere e manifestazioni che alla fine hanno contribuito a portare frutti. L'ultima iniziativa è la raccolta firme che ha raccolto moltissime adesioni. Nelle scorse settimane infatti erano stati allestiti diversi punti in città per sensibilizzare i cittadini all'importanza di sottoscrivere il proprio contributo per la causa ospedaliera. Una prova del cambiamento messo nero su bianco nel documento ufficiale dell'azienda sanitaria pescarese è rappresentata dal reparto di medicina. Il nuovo primario Paolo Di Berardino si occupa di obesità, diabete, malattie dismetaboliche e disturbi dell'alimentazione che costituirà uno dei nuovi poli di attrazione dell'ospedale di popoli. Ci auguriamo quindi che l'atto aziendale continua ad essere attuato e non possiamo che dirci soddisfatti per questo primo risultato raggiunto. Queste le conclusioni di testa e lattanzio al termine del convegno promosso dalla ASL che si è tenuto lo scorso sabato presso le terme di popoli che è servito a fare chiarezza sulla reale situazione dell'ospedale. Il piano dunque è in fase operativa. Il prossimo passaggio riguarderà la nomina del primario del reparto di riabilitazione alla quale ci auguriamo faccia seguito un buon piano di ristrutturazione e specializzazione.